Buongiorno, buon sabato mattina, ben ritrovati per la rassegna stampa dal lunedì al sabato sempre puntualmente alle 7.30 qui su Fano TV, canale 17, visibile in tutte le marche ma anche rassegna stampa come anche il telegiornale Occhio alla Notizia la Sera, visibile sui nostri portali naturalmente anche su Facebook, quindi ci potete seguire con comodità ovunque vi troviate noi facciamo però le cose per ordine, come sempre diamo un occhio al calendario e poi alle previsioni del tempo vediamo la giornata di oggi, sabato 4 maggio, è San Floriano di Lorca il sole è sorto alle 5.55 e tramonterà alle 20.14 fiondiamoci subito sulle previsioni del tempo che vi dico subito non sono un granché perlomeno almeno per la giornata di domani sono veramente brutte oggi un po' di variabilità, vedete cielo parzialmente nuvoloso per nubi orografiche con aumento della copertura, in particolare però nelle zone interne e nel pomeriggio arriveranno però le schiarite e in serata, eccezione del comparto montano meridionale sul quale invece permarranno addensamenti nuvolosi, quindi sulla costa migliorerà un po' il tempo in serata mentre sui rilievi permarrà la perturbazione e quindi precipitazioni in tarda mattinata rovescio e temporali sparsi anche nelle zone interne le temperature sono in diminuzione, in particolare nei valori minimi domani è veramente un giorno orribile, guardate qui temporali, tuoni, fulmini, pioggia, nubi di forte intensità di colore grigio scuro e sole manco l'ombra, quindi insomma cielo parzialmente nuvoloso aumento della copertura nella tarda mattinata e cielo nuvoloso per tutto il resto della giornata precipitazioni intense sulla fascia collinare ma anche sulla costa dalla tarda mattinata rovesci anche a carattere temporale tardo pomeriggio poi ancora rovesci e temporali sparsi più insistenti nei settori costieri e collinari quindi insomma proprio siamo investiti in pieno addirittura compare il limite delle nevicate nel tardo pomeriggio intorno ai 900 millimetri vedete qui la simbologia in basso nella zona meridionale della regione temperature in picchiata nei valori massimi e quindi insomma avremo veramente a che fare con una giornata di brutto tempo anche i venti vedete grossa intensificazione vento moderato fino però ad arrivare addirittura a raffiche di burrasca nelle zone collinari e tempesta nelle zone montane tempesta sono raffiche di vento che vanno dai 60 agli 80 chilometri all'ora quindi insomma sarà un vento veramente veramente importante poi nel tardo pomeriggio ci sarà una rotazione dei venti quindi ci sarà veramente anche zone interne e lungo la costa veramente una giornata brutta peccato per insomma se queste previsioni verranno rispettate per gli atleti che parteciperanno alla Colle Marathon perché veramente oltre alla fatica dovranno vedersela con le avversità del tempo per lunedì invece c'è una variazione sensibile vedete compare il sole cielo molto nuvoloso nuvoloso però con l'attenuazione nel pomeriggio a partire dai settori settentrionali della regione quindi insomma avremo un miglioramento deciso a partire proprio dalle nostre zone rovesci e temporali sparsi però in transito da nord verso sud che si andranno esaurendo nel pomeriggio e rimane il limite delle nevicate che anzi si abbassa anche per lunedì vedete da 900.000 è passato a 800-900 quindi insomma rivedremo i nostri rilievi temperature e quindi per questo effetto in diminuzione naturalmente più che altro nei valori massimi bene dopo questo bel escursus meteorologico non molto edificante passiamo alle notizie sui giornali quotidiani il resto del Carlino e Corriere Adriatico grande evidenza per la brillante operazione dei carabinieri di Pesaro e di Fano che hanno individuato e arrestato i responsabili del massacro di Grilli e vediamo subito le aperture questo è il Corriere Adriatico massacrato fino alla morte arrestati 4 calabresi in manette per l'omicidio di Sesto Grilli di 74 anni di San Lorenzo in Campola gratitudine del sindaco ma la fotonitizia è per Viale Fiume a Pesaro che diventa a senso unico e poi c'è naturalmente politica nelle pagine del Corriere Adriatico il PD non è autosufficiente vedrete farò bene all'Erap Massimiliano Bianchini 50 anni a luglio è il nuovo presidente dell'Erap Marche in basso nella pagina se ci riesco ad arrivare c'è anche la cronaca strattona alle spalle e poi le strappa il Rolex aguato in pieno centro siamo a Pesaro in via 11 febbraio andiamo con l'altra apertura quella del resto del Carlino fotonotizia e grande evidenza per la banda assassina questo è il titolo omicidio Grilli arrestati i quattro calabresi l'abbiamo impacchettato questo è uno stralcio delle loro intercettazioni telefoniche però Salvini che anche si esprime sul sull'arresto del nigeriano dopo aver preso a botte la polizia interviene appunto il ministro su Facebook e dice il nigeriano resti dentro ma c'è anche evidenza per la storia di Michael Lani muoio ma non piangete fate una festa per me raduno al ristorante di cui i genitori sono titolari proprio per questo momento di insomma di unione tra tutti coloro che lo hanno conosciuto e poi si parla anche di passaggi festival con gli ospiti di questa edizione andiamo a vedere le pagine dei quotidiani dedicate all'omicidio Grilli ucciso dal branco quattro arresti calabresi in manette due incastrati dal DNA volevano i soldi e lo hanno ammazzato e massacrato emigrati due vivono a Pesaro altri in provincia di Bologna poi hanno alloggiato in hotel dopo l'agguato mortale erano freddi e distaccati dice il titolare dell'albergo dove hanno alloggiato l'altra pagina dedicata a questo arresto ecco qua sono queste le foto e i nomi dei quattro arrestati le intercettazioni anche in auto l'ho impacchettato e lui stava buono buono queste le parole di Nino De Luca gli orrori tutti gli orrori della banda incastrati dai reperti che sono stati presi proprio nell'immediatezza dell'omicidio nella casa di Grilli ma anche intercettazioni di videocamere tutti gli spostamenti tutto quello che è stato fatto in questi mesi un grande lavoro di setaccio che ha portato ad individuare una persona che poi ha condotto i quattro e quindi un lavoro veramente minuzioso e meticoloso degli inquirenti Grilli eccolo qua invece qui siamo sul corriere adriatico ucciso senza pietà presi quattro calabresi incastrati dai tabulati e dal DNA questo risultato arriva dopo 40 giorni di indagini i carabinieri trovano la prova regina sul nastro adesivo col quale avevano legato e imbavagliato Grilli ad una sedia e poi le telecamere che rilevano tutti i loro spostamenti la sera dell'omicidio per due volte l'auto di uno dei quattro è andata avanti e dietro tra Pesaro e San Lorenzo in campo ma poi appunto intercettazioni telefoniche tabulati insomma veramente un lavoro di grande impatto ed eccoli qui i RIS gli uomini del RIS che sono arrivati proprio per fare i rilievi e che hanno incastrato con la prova regina il DNA i quattro nel posto nel luogo dell'omicidio poi le intercettazioni e i video delle telecamere di autostrade ingresso entrata uscita dai caselli hanno fatto tutto il resto il grazie del sindaco dell'Onti ai carabinieri per la rapida soluzione del caso il sesto giustizia è fatta dice il sindaco ora il paese esce da un incubo davanti al GIP hanno fatto scena scena muta e l'avvocato difensore dice farò ricorso questi sono stati i primi momenti degli interrogatori ai quattro altre notizie di cronaca avete visto dal lancio della prima pagina guato alle spalle sul pianerottolo di casa una donna di 70 anni rapinata in pieno centro a Pesaro sul pianerotto di casa in via 11 febbraio il malvivente l'aveva pedinata la spintona sull'uscio di casa per rubarle il Rolex che aveva al polso e poi Salvini che si esprime proprio sul pusher nigeriano dice Manesco strali che arrivano da Salvini il ministro si scaglia via facebook contro il clandestino ora resti in carcere questo è il suo pensiero vi avevamo dato questa notizia la settimana scorsa più o meno nel carlino del 27 di aprile la sfida mondiale di questo pompiere di pesero che vedete qui nella foto orgogliosamente davanti a uno dei mezzi dei vigili del fuoco che va a fare questa particolare competizione si tratta di fare a piedi 80 piani di un grattacielo il WTC3 dove appunto 400 vigili del fuoco da tutto il mondo andranno lì per commemorare non è una gara insomma fine a se stessa è una gara commemorativa per commemorare i pompieri gli eroi dell'11 settembre che hanno lasciato lì la vita per soccorrere e per spegnere quel incendio e quindi insomma in occasione di questo New York City Memorial Stair Climb Diego avrà il supporto il supporto di uno sponsor sfida mondiale per l'11 settembre un anonimo imprenditore dice pago io le spese per questo pompiere che vuole così cimentarsi con questa con questa impresa e quindi insomma imprenditore anonimo al fianco di Diego Tortoioli e anche noi gli facciamo gli auguri di ben figurare in questa impresa insomma ho pensato 80 piani con oltre 20 chili di roba addosso tutti a piedi e di corsa insomma non deve essere sicuramente una passeggiata e poi l'ultimo saluto muoio ma niente lacrime il raduno di parenti e amici per ricordare Michael festa dopo l'addio è un modo per si può festeggiare la morte perché si va oltre questa era la sua volontà insomma il ristoratore di 31 anni del cigno bianco deceduto dopo una lunga malattia nei giorni scorsi è stato ricordato appunto in questo modo da amici e da parenti le parole del papà dice che c'è chi ha pianto c'è chi ha sorriso tutti contenti però di stare insieme per lui e con lui soprattutto in questa giornata nelle pagine del resto del Carlino però si parla di passaggi festival che allunga il passo due giorni in più e ospiterà nomi di grande grido del panorama politico e culturale vedete qui forse quelli di più di più impatto Massimo Giletti insomma conduttore televisivo giornalista di l'arena e poi adesso non è l'arena e poi Milena Vukotic conosciuta da tutti come la moglie di Fantozzi ma è un'attrice di grande spessore e ha fatto cose di grande impegno però poi ha fatto la moglie di Fantozzi ed è diventata famosissima e vabbè così è la vita e poi per la gioia del gentil sesso arriva Lino Guanciale eccolo qua che attore del momento cresciuto alla corte di Gigi Proietti e insomma quindi ci sarà di che sentire e di che vedere durante questa edizione di Passaggi Festival però naturalmente anche Rita dalla Chiesa Giulio Tremonti Paolo Crepe psichiatra conosciuto per tanti interventi in televisione Paolo Gentilone Massimo Recalcati insomma un parterre sicuramente di grande spessore ma arrivano anche i big della politica Fano per le elezioni amministrative eccoli qua sono i due vicepremiere Di Maio e Salvini insomma quindi arrivano uno arriva il 9 maggio Salvini e invece Di Maio arriva il 14 di maggio uno arriva di sera e l'altro arriva a mezzogiorno Salvini arriva in piazza alle 12 giovedì invece Di Maio alle 20 sempre in piazza per un bagno di folla e per il tour elettorale nelle Marche poi ieri c'è stata la presentazione dei candidati per la lista della sinistra di Teodosio Auspici Uguaglianza e Lavoro questa è la sua sinistra la sinistra naturalmente per Fano presentati tutti i candidati che vedete qui in questa foto di gruppo poi altre notizie naturalmente domani come ho detto all'inizio tempo permettendo ma insomma si correrà comunque con tempo bello e tempo brutto gli atleti verranno giù i maratoneti verranno giù da Barchi che per l'occasione la porta nuova la porta la partenza dal di qui si parte c'è lo start si veste d'uncinetto esperimento artistico di 30 volontarie guidate da Domizia Frigerio che hanno fatto questi centrini vedete adesso li allargo un po' centrini fatti all'uncinetto che nelle nostre case spesso si trovano presine sotto pentola insomma gli utilizzi sono i più svariati in questo caso ecco ci hanno tappezzato la porta simbolo della città di Barchi proprio per così enfatizzare una installazione possiamo dire anche artistica e poi l'arrivo stasera alla Darsena Borghese domenica la processione fino a San Paterniano al via le celebrazioni per la Madonna Pellegrina di Loreto organizzata dall'Unitalsi di Fano ancora andiamo avanti nelle pagine però cambiamo testate andiamo al Corriere Adriatico anche qui si parla di di politica il centro storico sta morendo fuoco di fila contro il sindaco dibattito tra candidati seri però difende le opere realizzate per il suo rilancio rilancio del centro storico incontro a quattro organizzato da Confcommercio qui nell'articolo tutti i temi trattati in questo confronto a quattro tra candidati e poi anche qui nel Corriere Adriatico votano per noi i progressisti sono le parole della lista di Teodosio Auspici capolista Marta Costantini non rappresentati i progressisti dal sindaco quindi Auspici ha presentato la sinistra per Fano i suoi cavalli di battaglia sono sostegno e disabilità giovani e mobilità dolce ancora sempre nelle pagine del Corriere Adriatico c'è il restauro della Pala del Seicento qualifica l'intera cattedrale siamo a Fossombrone l'architetto Luzio ha presentato l'opera di Guerrieri dedicata a San Giovanni di Mata e poi invece c'è Cronaca sempre su Fano ieri in via della Bazzia ambulanza 118 per questo schianto sembrerebbe una mancata precedenza poi uno dei due conducenti è stato trasportato all'aeroporto dall'ambulanza e caricato sull'elisocorso per essere trasferito all'ospedale di Ancona anche qui a Valcesano le pagine dedicate alla Valcesano grande enfasi per la Colle Marathon domani da Barchi a Fano una gara che chi l'ha fatta veramente è rimasta nel cuore per il bel paesaggio che si gode venendo giù da Barchi proprio sui discesi sui declivi che portano degradando fino al mare di Fano domani forse non vedranno un gran bel panorama per lo meno dal punto di vista meteorologico questa è la partenza domani alle 8 dalla porta che vi ho fatto vedere prima questo è un momento della partenza dell'anno scorso e poi l'arrivo è alla Rocca Malatestiana l'arrivo è la Rocca Malatestiana quindi nel cuore di Fano a partire da mezzogiorno le 11 più bravi arriveranno intorno a quell'ora le lepri arriveranno a quell'ora poi nelle pagine di Urbino si parla del distacco dalle Marche di Sassofeltro e Monte Copiolo martedì la Commissione Affari Costituzionale del Senato ascolterà il Presidente della Regione Luca Ceriscioli quindi Ceriscioli porta la questione in Senato audizione i referendum sono da rifare il Governatore delle Marche martedì sarà in Commissione ancora però nelle pagine di Urbino si parla di Europa si è parlato di Europa perché c'è stato questo incontro a Raffaello Sanzio con due ex Presidenti del Consiglio dei Ministri Enrico Letta e Mario Monti salviamo l'Europa questo è il tema da Urbino parte questo appello i due hanno dialogato con con il Professor Franco Vaccari e quindi c'è stato questo dibattito imperniato come vedete in questo momento ritratto dalla foto proprio sul tema Europa tema Europa e invece da Senigallia l'ultima pagina che vi faccio vedere è per San Paolino il patrono tra sacro e profano Senigallia in fiore per il patrono oggi la messa la preghiera in piazza ma anche tanta musica la banda cittadina ma niente processione quindi un programma nutrito e rinviato a giugno per mal tempo il Wine Festival confermata invece Bici in Città queste le attività che si svolgeranno alcune soltanto a Senigallia bene questo è quanto io chiudo qui questa rassegna stampa del sabato mattina naturalmente nei giornali ci sono tante altre notizie queste sono quelle che avevamo selezionato principalmente per voi in questo inizio di mattinata grazie buon proseguimento di giornata questo è il numero che ormai conoscete a memoria 338-4968-250 per entrare in contatto con la nostra redazione e farci le vostre segnalazioni grazie e tempo permettendo buon fine settimana a tutti voi a tutti